Mr. Angelo Quaglia, questo è un pareggio che è stata vittoria? Sì, per come si era messa la partita sicuramente sì, andare sotto di tuo collo contro una squadra del genere e avere la forza di recuperare testimone il fatto che abbiamo ritrovato un'ottima condizione e soprattutto una voglia di fare che purtroppo qualche partita fa ci è venuta meno per ovvi motivi che tutti conosciamo Sono arrivati quattro punti con scuole importanti come Baiano a Crotanuto, il Belizzi in casa, il suo fortino, però adesso bisogna anche recuperare due partiti importanti con Montoro e Solofra quindi strizza ancora gli occhi ai playoff Sì, altri risultati ci daranno una mano, purtroppo siamo condizionati anche da questo Resta il fatto che noi dovevamo cercare di fare il massimo su tutti i campi per raggiungere probabilmente un obiettivo che sembrava esserci sfuggito fino a qualche partita dietro Anche le spuzioni di Darobbio, una partita comunque compromessa quasi perché dopo 20 minuti giocare in dieci contro la Corazzata a Crotanuto non era assolutamente facile Sì, assolutamente sì, perché siamo stati costretti a muovere dei giocatori in campo e abbiamo sprecato energie preziose che però devo dire la verità alla fine i ragazzi li hanno riacquistati con una voglia di raggiungere il risultato che veramente fa onore a loro Adesso, Mister, questa è la tua prima esperienza in Irpinia, hai rinnovato il contratto per la prossima stagione Cosa ti aspetti da Patron Balfiore per il futuro di questo Belizio Irpino? Per il futuro adesso pensiamo innanzitutto a finire bene questo campionato nel migliore dei modi perché la società, l'ho detto più volte, ha fatto dei sacrifici enormi la prima esperienza in questo campionato e quindi merita il massimo che possiamo fare Poi per quello che sarà il futuro valuteremo, non è un caso se in squadra adesso abbiamo dei giocatori argentini, portoghesi stiamo valutando a 360 gradi, molti giovani, vediamo un attimo di mettere su una squadra che possa regalare soddisfazioni Samuel Pugliese, è arrivato il primo gol tra i grandi, non ancora 18enne, raccontaci le due emozioni al momento della palla E' stata un'emozione fantastica, segnare contro una prima in classifica non è da tutti, sono molto contento e spero di andare avanti per questo percorso Quasi 18 anni, come ti trovi qua il Belizio Irpino? Bene, con tutti i compagni sono abbiantato molto bene e spero di fare altro Quindi il Belizio Irpino ha un 2004 interessantissimo come Samuel Pugliese, cosa promette ai tifosi che oggi ti hanno sostenuto dal primo al novantesimo? Andare ai play-off Ah, quindi una promessa importante questa qua di Samuel Pugliese, quindi tu ci chiedi ancora nella post-season? Sì, sono molto fiducioso